Una 19enne originaria di Foggia è stata arrestata a Salerno dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato. La ragazza è stata colta in flagranza all'interno di un negozio di abbigliamento, mentre oltrepassava le barriere antitaccheggio con della merce per un valore di circa 400 euro. La giovane aveva selezionato circa 30 capi di abbigliamento intimo, ma è stata vista da un dipendente che ha allertato prontamente la polizia. Gli agenti della sezione volanti, intervenuti rapidamente nel centro commerciale, hanno bloccato la 19enne accompagnandola in questura, dove dopo le operazioni di rito è stata trattenuta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. A carico della ragazza, invece, è stato avviato il procedimento amministrativo per il divieto di ritorno nella città di Salerno.